Daniele, ma che è sta cosa? Sono dei bigliettini che possono essere sia firmati che anonimi. Vediamo cosa porti tu se devi preparare il tuo cassone per il confesso. Questo è un trattamento che aiuta anche nel lavoro per metterli più rotondi, per distendere l'incollatura. Sì, sì. Guarda, anche se affondo tanto sta già meglio. Sì, sì, ora guarda. Guarda, qui si è già sciolto, guarda. E in questi giorni mi sto divertendo veramente tanto. Penso, finora, una delle settimane più belle della mia vita.